Si è verificato un incidente stradale sulla rampa dello svincolo di Gioia Tauro della A2 Salerno-Reggio Calabria, coinvolgendo un furgone e una vettura. Nel sinistro sono risultati tre feriti, fortunatamente non gravi. Attualmente mancano dettagli aggiuntivi sulla dinamica dell'incidente, ma si ipotizza che l'asfalto reso viscido dalla pioggia possa essere stata la causa scatenante. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti prontamente sul luogo per gestire la situazione. L'evento ha generato preoccupazione per la sicurezza stradale e ha richiesto l'attenzione immediata delle autorità competenti. L'indagine sull'accaduto è in corso e si spera che possa fornire chiarezza sulla sequenza degli eventi. Nel frattempo è essenziale ribadire l'importanza di adottare precauzioni in situazioni meteorologiche avverse per evitare incidenti simili. Il coinvolgimento dei due veicoli e la presenza di feriti sottolineano l'urgenza di promuovere la sicurezza stradale e di sensibilizzare ulteriormente sull'importanza del rispetto delle norme del codice stradale. La prontezza dell'intervento della Polizia Stradale dimostra l'importanza di avere risorse dedicate per gestire tempestivamente situazioni di emergenza sulle strade.